buongiorno a tutti oggi quello che facciamo è affrontare l'ultimo diciamo argomento che riguarda react quantomeno l'ultimo da dal punto di vista di quello che possiamo fare finora con react quindi react all'interno appunto all'interno del browser come front end senza avere la possibilità di utilizzare un server per recuperare le informazioni o per salvare le informazioni e quest'ultimo concetto quest'ultima cosa che vediamo oggi è appunto il routing all'interno di react quindi un routing client side all'interno del browser poi riprenderemo ancora alcuni concetti di react alcune relativamente piccole cose di react quando avremo un server anche a disposizione in modo da vedere come si unisce quello che abbiamo fatto finora con la parte di server aggiungeremo ancora un hook e principalmente vi racconteremo un po di life cycle e qualche metodo appunto per passare informazioni da il browser e con react in questo caso e il server che costruiremo sempre in javascript e questo per la prima ora per la prima parte della lezione la seconda parte della lezione abbandoneremo react e ritorneremo un attimino su javascript e parleremo di classi e moduli i moduli ormai li state utilizzando quindi non dovrebbe essere niente di particolarmente nuovo quantomeno non sperimentato ma magari vi fa capire perché certe cose funzionano in un certo modo mentre le classi sono una cosa nuova che non abbiamo usato in react che non useremo in react ma che ci possono essere comode quando la settimana prossima inizieremo a parlare di server inizieremo a lavorare un pochino sul server perché il corso come ricorderete è comunque concentrato per la maggior parte sul front end quindi la parte di react fatta finora ma aggiungiamo un pochino di back end giusto le informazioni essenziali e i metodi le tecniche essenziali per completare per esempio aggiungere la persistenza alla nostra applicazione react in modo che quando aggiungiamo un esame quando aggiungiamo una un elenco di cose una una to do li un qualcosa nella nostra to do list ecco questo qualcosa rimanga salvato anche quando facciamo il refresh del browser o se molteplici utenti visitano la stessa la nostra applicazione web da browser diversi ma appunto per partire partiamo di parliamo di reato super allora perché ci serve reato router allora qual è la nostra prendiamo il nostro esempio del degli esami che ho caricato ieri sera notte un pochino aggiornato su github nel repository week 08 e innanzitutto perché è un pochino aggiornato beh perché ho aggiunto qualche corso in più qui quindi testo e ho fatto ho aggiunto in exam component è un po di validazione nel form così avete anche un esempio quindi per esempio questa validazione sui corsi sullo score se ne può aggiungere di più ma giusto per avere un esempio che funziona e anche una modalità di avere un errore per questo nel caso in cui form non sia compilato in maniera corretta viene semplicemente una stringa per cui se queste validazioni non vanno a buon fine viene che viene impostato uno stato che si chiama error message e poi viene visualizzato in un alert che è appunto una una barra in questo caso rossa che appare sopra il form nel caso in cui i dati inseriti nel form non sono corretti e l'altra piccola modifica che ho fatto e memorizzare nello stato della data non è un oggetto dei js ma una stringa che ovviamente deriva dall'oggetto dei js che è inserito nell'esame questo perché questo perché se voi non usavate il date picker ma provate a scrivere la data qui prima di fare questa modifica voi potete tranquillamente scrivere il giorno il mese ma nel momento in cui iniziavate a scrivere l'anno per esempio 2000 e 2020 2022 2021 ecco questo comportamento che state vedendo adesso non avveniva ma questo questa data veniva resettata a partire da zero e non si riusciva partendo dal giorno a scrivere interamente la data con la tastiera funzionava senza problemi come abbiamo fatto con date picker allora per risolvere questo per risolvere un altro problema che è tipico che proprio di djs e che vedremo oggi che non vedremo oggi perché si risolve in questo modo ma se volete ve l'accenno dopo quando sarà il momento e passando a memorizzare nello stato del form una stringa e risolviamo sia questo problema sia altri eventuali problemi relativi a djs all'interno di un form inoltre la stringa è tanto quello che poi questo oggetto riesce a visualizzare non riesce a visualizzare oggetti d'altro tipo che non siano stringhe in un certo formato quindi a maggior ragione possiamo tranquillamente memorizzare qui una stringa e poi generare un oggetto djs quando andiamo ad aggiungere l'esame alla nostra lista di esami l'altra modifica che ho fatto è aggiungere questo filtro sui corsi quando si crea il form quando si mostra il form e questo filtro fa quello che l'altra volta ci abbiamo detto sarebbe una buona idea farlo quindi mostrare in questo elenco solo i corsi che non sono già stati superati essenzialmente toglie dall'elenco che viene passato al form i corsi che sono già compresi nella tabella quindi queste sono le tre o quattro modifiche semplici che 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 ho fatto tutto questo per dire che cosa fa adesso la nostra applicazione la nostra applicazione in questo momento è un'unica pagina sappiamo che react è un single page application quindi ci sta che sia un'unica pagina è un'unica pagina in cui abbiamo la stata bella abbiamo il nostro forum eccetera ora qual è il problema di dell'approccio che stiamo usando finora e che se voi avete un'applicazione più complessa di questa in cui immaginiamo il libretto degli esami ma in cui vogliamo aggiungere non so un form per modificare l'esame e poi vogliamo aggiungere il profilo dell'utente dello studente e poi vogliamo aggiungere delle statistiche di superamento esame e il voto medio per esempio dello studente oppure il voto in centodecimi che verrà convertito dagli esami eccetera voi capite bene che se noi abbiamo tutto in unica pagina questo diventa ben presto un pasticcio perché abbiamo la tabella poi abbiamo un form poi magari abbiamo un altro form poi abbiamo il profilo utente lo facciamo apparire a sparire sparire in certe posizioni quindi rischiamo ad avere una pagina con tutto al suo interno che appunto è un'applicazione un pochino più complessa di questa che semplice diventa un pasticcio da da gestire ma da vedere anche con milioni di bottoni che fanno apparire sparire pezzi in base a quello che interessa non interessa come possiamo se volete risolvere questo problema e cosa fanno cosa fa un'applicazione web tradizionalmente per risolvere questo problema un'applicazione web tradizionalmente per risolvere questo problema usa le url per cui qui ci sarà un qualcosa poi uno scrive profilo o profile e andrà alla pagina del profilo dell'utente oppure scriverà stats e andrà alla pagina di statistiche dell'utente oppure scriverà ad e andrà alla pagina di aggiornamento dell'esame e quindi un'applicazione web tradizionale quelle che anche avete esperienza voi dividono l'applicazione in più pagine più pagine che sono collegate a più url e ora questo capite bene va un po in conflitto quest'idea va un po in conflitto con l'idea del fatto che react è una single page application perché se è una single page application come facciamo ad avere più pagine e lo facciamo tramite quello che si chiama appunto un router in questo caso react router e questo è essenzialmente quello che che vi ho detto adesso no il problema su cui ci per cui il routing ci può servire o che vogliamo risolvere quindi vogliamo cambiare tra differenti pagine ma anche magari pagine con layout diverse in cui in una pagina abbiamo una tabella e un foro nell'altra pagina abbiamo una colonna laterale e una delle informazioni testuali sulla sulla destra per esempio e vogliamo anche gestire la navigazione tra queste pagine quindi parto da qui vado in un'altra pagina poi da questa pagina posso andare in una terza pagina tornare indietro quindi e inoltre vogliamo anche magari agganciarci alla navigazione del browser e perché appunto se abbiamo tante pagine possiamo anche premere i bottoni no avanti e indietro che ci sono nel browser per cui voglio tornare indietro ma se io ho un'unica pagina ovviamente questi bottoni sono inutili perché ho tutto in una pagina quindi non c'è una pagina a cui ritornare all'interno della mia applicazione e così via e questo è un esempio che probabilmente voi siete siete familiari no prendete facebook ma prendete un social network moderno qualunque che ha un'interfaccia web quello che fa se notate è che nonostante questi social network questi siti siano bene o male strutturati come single page application facebook usa react per per fare un esempio e usa anche react tra le tante altre cose e quello che loro fanno e quando voi cliccate da qualche parte pur essendo tutto una single page application o quasi tutta una single page application loro comunque cambiano la url e renderizzano una pagina diversa con magari contenuti diversi e con layout diversi qui per esempio un layout a tre colonne questa è una colonna questa quattro colonne e qui per esempio siamo alle auto in cui ci sono due colonne qui qui c'è una terza colonna poi c'è questa parte che è su entrambe le colonne questo di nuovo e due colonne e aggiunge una barra di navigazione qui in alto che qui non c'è questa mantiene la barra di navigazione e ha di nuovo queste quattro colonne di cui queste due sono all'inizio raccolte dentro questo cappello che è l'immagine eccetera il tutto questo mantenendo alcune parti in comune come questa parte laterale e senza cambiando la url ma senza ricaricare interamente la pagina quando voi navigate su un sito moderno quello che succede quando schiacciate su un link andate per esempio in un'altra pagina ma non si ricarica tutto lo sfondo rimane magari questa colonna che comune rimane quello che cambia è il contenuto nella parte principale quindi questo è il il risultato che vorremmo ottenere anche noi il dividere la nostra applicazione web in più pagine ma senza farla ricaricare tutto e quindi sostituire al volo possiamo dire così soli componenti che non ci interessano e cambiando la url di conseguenza in modo che l'utente possa anche scrivere la url in cui vuole vuole andare e possa anche fare il refresh della pagina e vedere sempre solo la stessa informazioni presente nella pagina qui ci sono alcuni casi d'uso ma abbiamo un pochino riassunti e qui c'è un altro riassunto sulle url e di nuovo l'abbiamo in parte già detto la url in un sito web determina il tipo della pagina o la sezione della pagina e in un'esperienza appunto tradizionale che tutti abbiamo con il con il browser cambiare la pagina vuol dire cambiare la url e se noi cambiamo la url di conseguenza cambiamo la pagina inoltre la url può essere informazione può essere interessante può essere importantemente importante perché può contenere delle informazioni che la pagina web può a sua volta sfruttare per renderizzarsi in maniera corretta per esempio uno potrebbe avere ecco qui post e poi un questo caso un lungo id del post per cui il post id 1 visualizzerà il post identificato un invocamento da 1 e post id 2 ne visualizzerà un altro con lo stesso layout della pagina ovviamente ma col contenuto è levemente diverso perché uno sarà un post che parlerà di un argomento x e l'altro sarà un post che parlerà dell'argomento y e oppure anche può avere l'indicazione di qual è la categoria a cui quindi aggiungere informazioni aggiungere metadati se volete già direttamente nell'url che anche un'applicazione web potrebbe sfruttare inoltre le url sono comode per quello che già sappiamo già sperimentiamo si possono salvare si possono aggiungere ai preferiti e ogni volta che noi andiamo in quella url otteniamo sempre la pagina che abbiamo salvato e memorizzato e appunto come dicevo prima possiamo anche usare i bottoni avanti indietro navigare la cronologia per cambiare pagine all'interno della all'interno della nostra applicazione web ora noi sappiamo abbiamo detto prima che react è una single page application quindi in pratica quello che succederà per noi che comunque react ritornerà sempre la stessa pagina diciamo così fisica e ritornerà sempre index.js index.html che caricherà sempre la stessa applicazione quello che cambierà nel nostro caso è che la url verrà richiamata verrà interrogata dall'applicazione e personalizzerà in maniera completa cosa viene renderizzato all'interno dell'applicazione quindi questo routing nel nostro caso sarà un qualcosa che simula il comportamento multipagina ma mantenendo il tutto ovviamente come single page e questo qualcosa che simula il comportamento di un multipagina mantenendoci all'interno di una single page quindi fornendo al browser sempre il nostro index.html ma andando in maniera programmatica a intercettare gli eventi del browser a cambiare la url nel browser a leggere la url del browser e a modificare di conseguenza il contenuto della pagina che stiamo visualizzando è questo oggetto che si chiama react router che non è un componente di default di react react non mette a disposizione un router ma è una libreria aggiuntiva che possiamo installare come abbiamo installato react bootstrap o djs possiamo installare anche questo routing e ci sono diverse librerie di routing disponibile quella più popolare è frequentemente utilizzata e anche abbastanza flessibile e che noi useremo in questo corso è appunto react router che si può installare con npm install react-router-dom quindi nella nostra applicazione degli esami la prima cosa che faremo se vogliamo aggiungere questo meccanismo multipagina è appunto installare react-router-dom e perché react-router-dom perché react-router è un pacchetto comune che poi è personalizzato per il web ed è personalizzato per react native react native è react ma non per realizzare applicazioni web ma per realizzare applicazioni mobile o applicazioni diciamo non web in generale principalmente mobile quindi l'idea di react native e questa è giusta una parentesi è che voi scrivete codice che il codice di react quindi scrivete il codice scrivete componenti in jsx come abbiamo scritto finora usate javascript ma attraverso react native potete ottenere con alcuni accorgimenti un'applicazione nativa mobile per esempio un'applicazione android e quindi questo react router è ovviamente diviso nella parte web che è quello che interessa a noi e anche nella parte nativa dove non hanno ovviamente le url come il come poi era in web ma hanno anche lì la necessità di avere molteplici pagine perché un'applicazione mobile ha sicuramente molteplici pagine molteplici viste che possono essere appunto utilizzate quali sono le feature di react router e poi lo vedremo nel nostro esempio di degli esami quindi convertiremo il nostro progetto di esame in modo chiusi il router e beh innanzitutto collega a questi collegamenti tra l'applicazione react e le funzionalità del browser quindi si collega l'url riesce a leggere l'url tutto in maniera ovviamente automatica ed è anche abbastanza facile da integrare da capire in quanto utilizza dei componenti react quindi avremo nuovi componenti react e che appunto possono essere utilizzati nel nostro progetto per fare quello che che ci serve e questi componenti sono principalmente questi questi indicati qui quando vogliamo fare un link a una una pagina quindi quello che adesso scriveremo a il tag a possiamo usare il componente link che in realtà appunto brappa a oppure nav link che un ha potenziato dedicato alla navigazione ma equivalente al link quando vogliamo fare un ray direct quindi passare da una pagina a un'altra possiamo utilizzare automaticamente possiamo usare il componente ray direct per capire che cosa vogliamo renderizzare perché l'applicazione capisca quali componenti renderizzare quando è in una certa url o quando in un'altra url possiamo utilizzare il componente root e il componente switch e l'intera applicazione è invece contenuta in un container che in questo caso si chiama router che abilita appunto il routing client site quindi qual è l'idea è che noi abbiamo un componente un l'applicazione che è dentro i componenti routing e abbiamo dei link quando che vengono renderizzati come link normali quando noi clicchiamo sono di questi per esempio clicchiamo su about si arriva in app punto g s per esempio in cui ci sono tutta una serie di route che faranno il matching con questo quindi non quando schiaccieremo about questo switch andrà a vedere chi è che gestisce about e lui e questo root qui che gestisce about perché è scritto qui cosa succede quando trovo una url che si chiama about beh devo renderizzare il componente e about che non so mostrerà le informazioni testuali sul sull'applicazione web quindi vedete componenti che hanno delle proprietà che al suo interno contengono i componenti che vanno poi renderizzati vediamoli nel dettaglio un po un po di dettaglio partiamo da router che quello che contiene tutto router e in realtà è una collezione di diversi router e noi useremo browser router che quello è più più comune standard diciamo che funziona con browser moderni anche perché utilizza url normali esattamente come le abbiamo scritte immaginate finora e anche appunto si aggancia alla cronologia del browser ed è la versione appunto raccomandata per i browser moderni e come si usa beh si usa con import browser router as router from reactor router dom esattamente come importiamo altri componenti della nostra applicazione e questo deve fare il wrapping dell'intera app è molto importante questo per cui noi o quantomeno dell'intera app dell'intera app quindi prima del nostro container che ha class name app o div che ha class name app dipende come l'abbiamo fatto ma proprio prima di all'interno del componente app il primo blocco che andiamo a mettere il primo elemento che andiamo a mettere è router che in questo caso sarà un browser router router richiede in alcuni casi un po di configurazione su server non è necessario alcun tipo di configurazione per come stiamo utilizzando noi adesso react quindi col server che gestisce react che è imbeddato dentro react ma ci servirà ovviamente quel minimo di configurazione nelle prossime settimane quando aggiungeremo noi un server che farà qualcosa di diverso rispetto a quello di react e lo vedremo poi con calma nelle prossime settimane ma essenzialmente quello che ci serve sono queste quattro righe queste quattro righe di cui l'ultima è solo una chiusura di parentesi ci servono queste righe qui che sono sempre uguali per ogni applicazione react che usa il router che usa il browser router con in questo caso express che è il framework server side che andremo a utilizzare quindi ricordiamoci che ci serve un po di configurazione server quando abbiamo un server dedicato quindi non in questo caso ma che appunto si risolve mettendo righe come queste quattro all'interno del server ma questo di nuovo lo vedremo nelle prossime settimane quando avremo un server vero e proprio avremo poi questo bisogno di pubblicare la nostra app react attraverso un server che costruiamo noi e non quello semplice che viene fornito da react dentro router possiamo utilizzare o direttamente delle route o all'interno dello switch ma vediamo prima le route possiamo utilizzare questi componenti route che sono quelli che fanno effettivamente il match tra quello che appare nella url e il componente da renderizzare quindi quello che diciamo qui in questo esempio è se la url parziale quindi dopo localhost.3000 o dopo il mio sito .it è niente la route allora renderizzi il componente o se invece la url parziale è news allora renderizzi il componente newsfeed quindi il primo ci dice qual è il path e possiamo usare anche un'espressione regolare per farlo e poi diciamo qual è il componente che è associato o i componenti che sono associati a quel path specifico il route oltre al path ha tre altre opzioni la prima è quella che c'è in questo esempio che si chiama exact che dice che il path indicato in questa route deve essere esattamente quello quindi non si possono usare quando si indica exact espressioni regolari per derivare calcolare il path ma è esattamente quella stringa riportata lì in quello specifico modo strict è un rafforzamento quindi questo si usa anche abbastanza spesso gli altri due si usano un po' meno soprattutto sensitive sensitive dice che il match tra l'url e quello che è scritto nella route deve diventare case sensitive di default è insensitive e strict invece è un'opzione che possiamo mettere per indicare che il path deve essere proprio strettamente quello riportato lì lettera per lettera quindi se il path per esempio ha questo in fondo al path allora l'url del sito viene matchata solo esclusivamente se termina con lo slash se non termina con lo slash allora non viene matchata perché è proprio strettamente un match proprio stretto 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 di ogni singolo carattere tipicamente appunto ci si riferisce al carattere di termine dell'url le route possono essere sia statiche come quella di home e di about sia dinamiche quindi avere dei parametri che vogliamo utilizzare e questi parametri li mettiamo in questo modo due punti una stringa a nostro piacere in questo caso due punti di questo è un parametro che poi possiamo ritrovarci se vogliamo all'interno del componente e che cosa serve? Vuol dire che noi questa route se noi scriviamo post 3 o post 5 o post ciao nella url tutti questi verranno matchati verrà fatto il match con questa route specifica e all'interno del codice, all'interno del componente possiamo andare a prendere questa informazione possiamo andare a prendere se è stato scritto 3 nella url se è stato scritto 5 nella url o se è stato scritto ciao nella url e quindi comportarci in maniera diversa in base a quello che l'utente o l'applicazione web ha scritto nella url questo perché è comodo perché magari in base a quello che c'è nella url noi possiamo decidere di renderizzare in maniera diversa quello che ci interessa renderizzare per cui se questo è una collezione di post tipo un blog se c'è scritto 3 visualizzeremo il contenuto del post identificato da 3 o i vostri task con 3, con un'unica parte di codice visualizzerete il task corretto 3 se invece è 5 visualizzerete il task 5 però senza dover cambiare il codice che avete scritto quindi vi permette di avere una sorta di templating per astrarre alcune informazioni e non dover replicare il codice per tutti i numeri per esempio che potrebbero essere presenti qui in post in questo url che inizia con post e questa è la parte che riguarda path e i suoi attributi la parte che riguarda la root e i componenti è invece quello su cui ci concentreremo adesso e noi abbiamo tre modi in React Router per dire quando abbiamo questo path quando viene fatto il match con questo path definito nella url renderizza questo componente abbiamo il metodo component abbiamo il metodo render abbiamo il metodo childer il metodo preferito in generale che useremo noi sempre praticamente è il metodo render che cosa fa il metodo render? il metodo render dice quando la root ha un certo path che viene matchato come abbiamo visto finora renderizza una funzione cos'è questa funzione? questa funzione è un'espressione JSX che ha su interna i componenti esattamente come abbiamo fatto finora quindi possiamo prendere il codice che abbiamo scritto finora e incapsularlo all'interno di un elemento root cosa fa questo root scritto in questo modo? se il path ha un match allora renderizza il risultato della funzione che nel nostro caso sarà un'espressione JSX un'altra modalità che può essere utile in certi casi particolari è questo childer questo childer si comporta in maniera esatta e si comporta si scrive in maniera analoga a quanto scriveremo su render ma ha una caratteristica che l'espressione JSX riportata nella funzione si renderizza sempre sia quando c'è match sia quando non c'è match questo può essere utile se noi vogliamo renderizzare comunque per ogni pagina certi componenti certi bottoni certi link e magari vogliamo personalizzare il colore di questi link o nasconderne solo alcuni o cambiare il testo di alcuni se il match con la URL è stata fatta oppure non è stata fatta poi come comportamento sulla parte quantomeno dei componenti è identica a quello che capita con render come facciamo a sapere se il match è stato fatto o non è stato fatto in children ma anche negli altri esiste una proprietà che si chiama match che se è valorizzata con qualcosa per esempio una stringa e per esempio scusate se è valorizzata con true se è vera allora vuol dire che il match è stato fatto correttamente se invece è null vuol dire che il match non è stato fatto ovviamente render non funziona se il match è null invece children può sfruttare questa conoscenza del fatto che il match sia null perché tanto lei si renderizza in maniera si renderizza sempre comunque in tutti i casi i componenti ricevono tre proprietà tre props match l'abbiamo detta ricevono anche la proprietà location e la proprietà history la proprietà history è un riferimento all'oggetto della cronologia che è collegata alla cronologia del browser quindi ci permette di aggiungere cose nella cronologia del browser tornare indietro di una pagina andare avanti di una pagina tornare a dieci pagine pa eccetera come se voi navigaste nella cronologia del browser location è invece un oggetto che contiene tra le altre cose la url corrente in cui ci si trova e questo appunto qual è la posizione corrente che l'applicazione appunto in cui l'applicazione si trova il match a sua volta è composto da quattro proprietà params che corrisponde al segmento dinamico del path quindi a quel due punti di al contenuto di quel due punti di nell'esempio che abbiamo fatto prima quindi al parametro all'eventuale parametro che c'è in una url is exact è un booleano che ci dice se è stato fatto il match dell'url completo oppure no quindi per esempio nel modo strict che abbiamo detto prima is exact sarà true path il pattern indicato nella root per fare il match quindi slash post slash due punti di e url la porzione che è stata fatta il match quindi la url che è stata matchata per con cui è stato fatto il match per chiamare per renderizzare quei specifici componenti le tre proprietà di routing più il segmento parametrico quindi quello dinamico che è contenuto dentro params sono anche disponibili da rectrouter come hook e poi ovviamente funzionano nello stesso modo quindi vediamo qui un esempio ma sono equivalenti ad accedere direttamente alla props history.push ci permette di usare quella proprietà history e ci permette di aggiungere alla history slash home e quindi come se noi andassimo in realtà quello che facciamo aggiungendo la history di qualcosa aggiungendo la cronologia a qualcosa noi navighiamo a quel qualcosa perché noi siamo in un punto aggiungiamo qualcosa alla cronologia successiva a quel punto e quindi navighiamo nel punto avanti nel tempo avanti nella storia location vedete un oggetto in cui possiamo prendere per esempio il path name quindi ad esempio slash blog slash post slash tre useparam è quello che ci permette di prendere il componente dinamico il componente parametrico dalla url e quindi se abbiamo una root che si chiama blog due punti slug e la url è blog slash tre questo useparam stamperà tre infine use root match vi restituisce un hook per l'oggetto match per l'intero oggetto match quello che è a vero oppure a null e può essere utile per accedere se servisse a questo oggetto match per sapere se quindi la url al certo punto era stata matchata oppure no però senza dover renderizzare tutta una root quindi all'interno di un componente uno potrebbe dire ok ma nella pagina in cui sono ho fatto il matching oppure no e comportarsi di conseguenza ora le root che abbiamo visto finora sono per default inclusive cosa vuol dire vuol dire che se noi abbiamo queste root fate finta ignorate il fatto che ci sia scritto switch se noi abbiamo queste root e noi scriviamo nel browser slash about noi facciamo il matching con questa root sicuramente perché ci è scritto about ma facciamo il match anche con questa perché questo è un parametro che potrebbe essere qualunque cosa e quindi about è un parametro valido rispetto a questo e facciamo anche il match con questo perché ovviamente non c'è pat e quindi qualunque cosa che viene indicata sotto questa root match quindi se noi facciamo se noi scriviamo slash about come risulta e non avessimo per come abbiamo visto finora le root il risultato che otterremmo è che nella nostra pagina renderizzeremo il componente about renderizzeremo il componente user e renderizzeremo il componente no match tutto uno sotto l'altro ora questo non è tipicamente il comportamento che vogliamo in quanto se noi vogliamo andare nella pagina about è perché vogliamo visualizzare solo about se andiamo nella pagina slash Luigi vogliamo visualizzare l'utente specifico e se noi andiamo in una pagina che non ha nessuna delle url precedenti vogliamo visualizzare ops la pagina non è stata trovata o un qualcosa del genere allora come facciamo passare dal comportamento inclusivo di root per cui vi avrebbe renderizzato tutto quello che viene fatto il match a un comportamento esclusivo per cui vogliamo renderizzare esattamente la url che noi vogliamo lo possiamo fare attraverso l'elemento switch switch renderizza solo il primo dei suoi figli che viene con cui viene fatto il match in maniera corretta con la url quindi se noi scriviamo le cose in questo ordine quindi rendiamo le root esclusivi se noi scriviamo le cose in questo ordine quando scriviamo slash about renderizzeremo solo ed esclusivamente questo perché il primo che fa match con slash about è questo se noi scriviamo slash luigi ovviamente non fa il match qui non fa il match su about e fa il match qui in questo ordine e quindi renderizzeremo user è importante ricordare che switch renderizza solo il primo figlio con cui viene fatto il match con la url per cui se noi siamo interessati a visualizzare about dobbiamo mettere about prima di due punti user prima della root di due punti user altrimenti verrebbe renderizzato prima l'altra quindi è importante partire con le root dalla più restrittiva fino a quella più ampia che potrebbe parzialmente fare il match anche con quello indicato in precedenza e questo è scritto qui sempre partire con le regole più restrittive quindi partiamo prima con la root poi partiamo con le url statiche che andiamo a inserire noi e poi eventualmente con quelle dinamiche e poi se ci fosse quella con che potenzialmente può fare il match con tutto per esempio usando children o per esempio non indicando il path e questo è per gestire le root quindi per decidere dato una url quali componenti effettivamente renderizzare noi abbiamo visto prima che c'è anche un'altra serie di componenti che servono per raggiungere quelle root per chiamare quelle pagine che sono il link per esempio quindi invece di ahref qualcosa noi con reactrouter scriveremo link che link poi è un wrapper per ahref quindi nel DOM andrà messo esatto verrà generato ahref ma questo è un link che appunto ci aggancia ha questo comportamento delle root quindi quando noi schicciamo su un bottone la url cambia e reactrouter sa poi attraverso il meccanismo di error switch e delle root quali pagina renderizzare link che attributi ha ha un attributo to che specifica qual è la pagina a cui voglio andare l'equivalente dell'href in l'equivalente dell'href nell'ancora e questo tu puoi essere o una stringa esattamente come l'href quindi la pagina la url la porzione di url a cui voglio andare può essere un oggetto più complesso che contiene anche ovviamente la url a cui voglio andare oppure una funzione che alla fine dei suoi calcoli restituisca o una stringa o un oggetto link di default aggiunge poi un elemento nella cronologia la pagina a cui devo andare quindi l'effetto è di andare nella nuova pagina e c'è anche una proprietà che secondo me si usa raramente che si chiama replace che ha come comportamento non quello di aggiungere qualcosa nella cronologia quindi la nuova pagina da visualizzare ma da rimpiazzare nella cronologia la pagina che ho visualizzato quindi se io sono su slash about vado su slash post verrà cancellato dalla cronologia slash about e verrà rimpiazzato con slash post e come dicevo è un wrapper per l'ancora per il tag A normale quindi tutti tutti gli attributi che sono validi per A possono essere passati a link e poi verrebbero trovati nel nel DOM c'è una domanda puff the.user match anche lo slash con exact sicuramente no e in teoria neanche perché questo richiede che qui ci sia qualcosa qualcosa ci deve essere scritto qualcosa invece qui non c'è niente subito dopo quindi matcherebbe tre per dire quindi non necessariamente about dicevamo link come al to oltre ad avere la stringa può avere che appunto dove andiamo può anche avere un oggetto complesso che ha vari parametri dove path name è esattamente la stringa che andiamo a mettere hash tanto non si usa con il browser router ma si usa con un altro tipo di router quindi ignoriamolo search è una stringa che è una rappresentazione dei parametri di una query quindi quelli che per esempio potreste avere con due punti qualcosa uguale qualcos'altro nella url invece lo state che è importante è un oggetto che viene passato da dove un oggetto javascript che potete passare da dove chiamate da dove schiacciate sul link alla destinazione del link e questo è per esempio utile per inizializzare si chiama state perché è utile per inizializzare lo stato lo stato quello con use state del componente che verrà renderizzato quando nella nuova pagina in cui ci sarà e che cosa serve? serve per passare informazioni tra una pagina e l'altra questo può essere un oggetto anche complesso ed è un'alternativa di passare i parametri nella url prendiamo l'esempio del nostro esame noi abbiamo immaginiamo di avere un bottone il bottone di update un bottone di edit per modificare l'esame e questo bottone per modificare l'esame applicazioni web 1 e questo bottone ci porta a un form questo form al suo interno nei suoi campi per esempio dovrà avere scritto che quello che stiamo modificando è applicazioni web 1 e che l'esame e che il voto che abbiamo preso di applicazioni web 1 è stato 30 e che è stato sostenuto in una certa data allora questo form dato con forma di modifica deve contenere le informazioni che noi stiamo modificando non può partire vuoto se vogliamo modificare le informazioni sull'esame di applicazioni web 1 allora come facciamo che questo form facciamo sì che questo form questa pagina che contiene il form si renderizzi correttamente con le informazioni giuste al suo posto il nome il voto e la data in cui è sostenuto l'esame possiamo farlo in due modi possiamo farlo o passando un oggetto esame dal bottone dalla pagina con tutti gli esami e quindi passare l'oggetto esame che corrisponde ad applicazioni web 1 al form e questo oggetto esame aggiornerà gli stati di questi campi quindi il value di questi campi e quindi il form si leggerà correttamente oppure potremmo mettere nella url applicazione web 1 slash edit e quindi andare a leggere questo parametro e allora il form potrebbe leggere questo parametro e andare a chiedere ok quali sono i dati di applicazione web 1 ah sono questi allora li prendo quindi questo passare lo stato è un modo alternativo a recuperare questa informazione dall'url in un certo senso se noi volessimo recuperare l'informazione dall'url e il form che si deve far carico di recuperare le informazioni giuste di chiedere a qualcuno di sapere a chi chiedere le informazioni giuste per renderizzarle correttamente con il passaggio di stato tra pagine invece il form riceve già le informazioni che deve renderizzare e quindi non deve fare altro che prenderle e visualizzarle non deve preoccuparsi di andare a capire ok queste devo renderizzarmi con quali informazioni perché non le ho vado a recuperarle dalla url poi vado a chiedere a qualcuno qual è il codice di questo esame poi vado a chiedere qual è la data di superamento eccetera eccetera ma semplicemente si ritrova le informazioni che ha bisogno e le può utilizzare direttamente senza preoccuparsi di chiederle questo appunto è location punto state e qui c'è un esempio dall'altra parte nella root è un location punto state qui c'è un esempio nel link possiamo scrivere state due punti l'oggetto che vogliamo passare e questo è il codice del corso per esempio ma può essere anche un oggetto più complicato può essere l'intero esame e dall'altra parte nella root possiamo prendere il parametro location che è uno di quei parametri che abbiamo detto prima insieme a match per esempio c'è anche location e da location punto state andare a recuperare il valore che abbiamo passato e all'interno di exam form avremo a quel punto una proprietà exam code che al suo interno ha il codice dell'esame questo si può fare anche in maniera più comoda in realtà con un hook dove per la parte di link non cambia niente per la parte di root non passeremo più un parametro ma semplicemente nel componente andremo a dire use location e a quel punto location punto state punto exam code conterrà al suo interno il codice dell'esame dato che magari questo form è utilizzato anche da viene chiamato anche da qualcuno che non ha bisogno di aggiornare ma magari utilizziamo la stessa forma per aggiungere anche elementi è sempre buona norma controllare che location state sia stato sia riempito esista quindi venga passato davvero lo stato dal link prima di andare a accedere all'elemento e prevedere un default questo è molto comodo da fare con look fatto così nel JSX può portare problemi bisogna stare attenti perché fatto così richiede se non c'è vengono passate le virgolette e quindi richiede che poi nel componente exam form si controlli comunque che effettivamente l'exam code sia un exam code valido e non siano virgolette altrimenti nel caso per esempio dei nostri esami rischeremo di aggiornare rischeremo di avere un forno di aggiornamento che non aggiorna il corso dell'applicazione web 1 ma potenzialmente potrebbe aggiornare qualunque tipo di esame già sostenuto che quindi non è il comportamento che ci aspettiamo quindi con look è più facile perché stiamo già nel componente se lo facciamo attraverso le proprietà del se facciamo questo controllo attraverso le proprietà attraverso quindi l'oggetto location punto state dobbiamo non solo controllare qui e settare l'avventuramento on default nel caso in cui non sia inizializzato questo oggetto state ma anche controllare nel componente che in questo caso exam code sia diverso da dal word da virgolette e se è diverso magari fare un redirect alla tabella dare un errore dicendo non posso aggiornare l'esame con id con codice vuoto ma ho bisogno di un codice valido qualcosa del genere quindi c'è comunque da fare un passaggio di check all'interno del codice del componente in questo caso qui infine nav link nav link è molto simile al link quello che ha in più è che ci sono alcuni attributi per che sono tipicamente utilizzati per la navigazione come per esempio active class name cosa vuol dire per la navigazione vuol dire se voi avete per esempio la barra in alto di bootstrap la navigazione di bootstrap e quando siete nella pagina home magari vorreste che il bottone home fosse evidenziato di un altro colore se andate nella pagina about volete che la pagina about sia evidenziata di un altro colore e questo nav link vi permette di avere questi attributi che vi fanno cambiare il colore vi fanno per esempio cambiare la classe CSS associata all'elemento correntemente attivo quindi alla pagina in cui siamo quindi è un link funziona esattamente per tutto come un link ha degli attributi in più dedicati che possono essere utilizzati che possono essere utili specialmente per la navigazione però è un link che funziona esattamente come un link e ha tutte le stesse proprietà che abbiamo già visto per il link infine il redirect il redirect cosa fa? il redirect semplicemente manda a una nuova posizione in maniera automatica quindi per esempio nel caso di un form se noi avessimo un form sottomesso quindi abbiamo inviato il form con successo quando abbiamo sottomesso il form potremmo fare il redirect alla home page quindi senza bisogno di avere l'utente che clicchi da qualche parte perché l'utente avrà già cliccato salva ma dopo il salvataggio dopo la verifica che tutti i dati del form sono stati memorizzati correttamente ritorniamo all'home page perché tanto non ci serve stare nella pagina del form quindi facciamo un redirect direttamente alla home page e questo è un esempio che adesso andremo a fare con il nostro progetto degli esami in cui andremo a ristrutturare l'applicazione che abbiamo fatto finora quindi con il form di add e con la tabella degli esami in modo da utilizzare la pagina e speriamo di aver tempo anche aggiungere la parte di aggiornamento di modifica quindi di un singolo esame quindi attivare questi quattro bottoni che sono qui la soluzione ovviamente di quello che faremo in aula sarà nel repository wicotto ma c'è già una soluzione che questa url è sbagliata su react score adesso poi la correggiamo ma su react score nel repository react store nel branch with router quindi guitar.com pulito ua1 av1 2021 slash react score slash tree slash with router poi la correggiamo anche nelle slide e ve la ricarichiamo ok domande fin qui prima di passare all'esempio sì no capisco che sono nove e mezza ma sì ok quindi direi che non ci sono domande ed è tutto abbastanza chiaro allora proviamo adesso a vederlo in pratica in un esempio così se avete altre domande o altri dubbi almeno possono emergere quindi vogliamo trasformare la nostra applicazione in un'applicazione che ha almeno due pagine una che è questa la root dove c'è la nostra tabella e poi quando clicchiamo sul bottone add andiamo in un'altra pagina che si chiamerà sempre magari your exam ma che qui invece della tabella avrà il nostro form solo il nostro form e avrà url slash add due pagine poi eventualmente aggiungiamo la terza questo cosa richiede richiede innanzitutto di installare react router DOM e quindi questo aspettiamo un attimo che si installe visto che il numero di partecipanti è aumentato un pochino se non vedete se il fondo è troppo piccolo per favore ditelo che lo aumentiamo ancora un po' ok e poi l'altra cosa che possiamo fare e abbiamo detto è in app importare browser router come abbiamo detto nelle slide perché tutto deve essere contenuto dentro browser router e from react router DOM quindi importiamolo importiamolo e abbiamo detto tutto deve essere contenuto dentro il router quindi come prima cosa nel return mettiamo il router se volete andiamo anche a capo così ok quindi avvolgiamo tutto quello che abbiamo fatto finora all'interno di un router e salviamo e facciamo anche partire l'applicazione che a un certo punto magari riprenderà a funzionare adesso dovrebbe funzionare in realtà perché non stiamo facendo niente di di strano quindi siamo sempre su localhost 3000 ok abbiamo messo il router ora definiamo per partire alcune le url che ci servono le root che ci servono e e poi vediamo perché definendo le root ci accorgiamo se dobbiamo magari spostare dello stato da una parte all'altra magari alzarlo ancora lo stato adesso lo abbiamo dentro la tabella se non sbaglio sì qui in exam table magari bisogna portarlo in app vediamo ma ce ne accorgiamo quindi andiamo ad aggiungere dopo up title perché quella è una parte che non cambierà mai potrebbe non cambiare mai la nostra idea non cambia aggiungiamo lo switch e assicuriamoci che lo switch venga anche aggiunto nell'import in questo caso viene aggiunto in maniera automatica e chiudiamo lo switch qui allora mettiamo lo switch dentro lo switch mettiamo una root e spostiamo questo dentro la root così ricreiamo la pagina che abbiamo fatto adesso questa root avrà come path possiamo scrivere exact path uguale slash che è esattamente quello che abbiamo adesso che farà il render se vogliamo usare quella sintassi di il render richiede un arrow function di un'espressione gsx quindi di questo poi dato che root è vuota possiamo chiuderla con lo slash qui ok quindi qui abbiamo la nostra tabella ovviamente ci dice root non è definito perché mentre switch l'ha importato root non l'ha importato ok ok ci stava pensando quindi abbiamo importato root e quindi poi possiamo usarlo quindi sullo slash abbiamo root e quindi abbiamo la tabella esattamente come l'avevamo finora niente di che a questo punto però abbiamo detto che noi vorremmo dividere la tabella e averla qui in questa pagina e poi avere una pagina che si chiama slash add che ovviamente adesso è vuota che non ha niente ma perché non è stata definita qui che conterrà il nostro form di aggiunta quindi possiamo intanto creare un'altra root poi vediamo cosa mettere dentro che avrà come path slash add render uguale aperte graffe arrow function qualcosa che adesso non sappiamo ancora e poi chiudiamo chiudiamo questo quindi abbiamo la nostra root add che in questo momento non fa niente ci siamo sì fin qui ok prendo l'unico sia arrivato come buono per ora abbiamo solo preso la nostra applicazione e rimessa dentro il path che già avevamo ora vogliamo dividerla e qui arriva la parte forse un pochino più complicata di riorganizzazione perché vogliamo che qui ci sia la nostra tabella e qui vogliamo che ci sia il nostro form quindi qui cosa dovremmo scrivere dovremmo scrivere dato che vogliamo il form qual è il componente del form il componente del form è exam form quindi qui dovremmo scrivere exam form però lo scrivo solo exam form exam form dobbiamo assicurarci prima di tutto che si è esportato e non lo è e quindi esportiamolo e poi che si è importato quindi qui importiamo exam form e qui iniziano a venire se volete sui problemi perché perché noi exam form l'avevamo dentro exam score e quindi exam score passava le proprietà che gli servivano al form noi qui lo stiamo mettendo in parallelo a exam score quindi non possiamo più avere exam score che passa le proprietà al form ma dobbiamo avere direttamente qui tutte le proprietà del form allora quali erano le proprietà del form le abbiamo scritte dove abbiamo questo bottone add qua quindi tutta questa roba per ora la copio e la andiamo a mettere qui dove abbiamo scritto exam form quindi abbiamo bisogno di una proprietà che si chiama corsi una proprietà che si chiama add exam e una proprietà che si chiama cancel allora corsi è facile perché corsi non ci serve più la proprietà ma ce l'abbiamo e questo qui è il nostro fake course quindi fake courses punto filter facciamo quello che facciamo prima per visualizzare solo i corsi nuovi nel nostro form e questo quindi questo l'abbiamo risolto questo è un attributo di qui exam code exam code non ce l'abbiamo quindi qui cancelliamo questo e lasciamo solo il bottone e togliamo questo un click perché tanto sicuramente non ci servirà exam code è questa cosa qua quindi tagliamola da component e andiamo a metterla dentro app ecco exam code parte da esami quindi noi possiamo in prima battuta immaginiamo di usare il nostro fake exam perché tanto è quello che abbiamo qui e così abbiamo sistemato una cosa abbiamo sistemato courses poi abbiamo add exam ecco add exam quello che fa è chiamare questo questo metodo add exam e questo set show non ci serve più perché sarà una pagina dedicata quindi dobbiamo chiamare questo add exam per aggiungere l'esame però l'add exam che passiamo come props non c'è qui no perché ce l'abbiamo nella tabella e allora ci serve però qui perché altrimenti non possiamo scrivere no così non possiamo chiamare add exam e allora dobbiamo portare ad exam un livello più alto dobbiamo spostare ad exam ad exam ad exam non in exam score ma in app il problema qual è il problema che ad exam ha bisogno dello stato e quindi non ci basta spostare ad exam ma dobbiamo spostare tutto a un livello più alto quindi dobbiamo togliere lo stato dalla tabella e andarlo a mettere in app l'intero stato che abbiamo definito prima tranne show form che ovviamente non ci serve abbiamo detto quindi questo però è esattamente lo stato di prima a questo punto abbiamo lo stato e allora questo possiamo utilizzare l'esame che c'è nello stato tanto arriverà sempre dallo stesso posto in questo caso da fake exam quindi abbiamo spostato lo stato su dato che non c'è più una props per gli esami usiamo direttamente fake exam e abbiamo il delete e abbiamo l'add che fanno esattamente quello che facevano prima niente di nuovo ok cos'altro abbiamo abbiamo il cancel che nascondeva il form in questo caso non dobbiamo più nascondere il form non dobbiamo più nascondere il form perché siamo in un'altra pagina e quindi quando premeremo un cancel dovrà succedere qualcos'altro però sicuramente non nascondere il form ok quindi qui sembra tutto a posto e il problema è che ovviamente noi a questo punto abbiamo rotto exam component perché abbiamo tolto cose da exam component le abbiamo spostate qui e quindi certe cose che prima erano nello stato le stiamo passando come props e certe cose che prima erano props magari le abbiamo diversamente sì tutte le cose che abbiamo messo su app vanno cancellate su exam component le abbiamo spostate di un livello in su esattamente stiamo ristrutturando l'applicazione ristrutturandola richiede ovviamente cancellare dei componenti da exam component è una ristrutturazione perché dobbiamo passare a un nuovo paradigma di interazione di navigazione nelle pagine non tutti in una pagina ma tanti link quindi adesso andiamo a vedere cosa ci manca infatti vedete ci dice che exam non è definito e delete exam non è definito quindi exam table a questo punto diventa più semplice non dovrebbe avere problemi perché i corsi arrivavano già da qui delete exam a questo punto arriverà anche lei dalla props vediamo come l'abbiamo chiamata ecco arriverà da una props quindi qui dobbiamo aggiungere una props che si chiama delete exam che chiamerà il metodo delete exam perché sennò nel componente non ce l'abbiamo più quindi delete exam viene passato e quindi possiamo fare props delete exam ok poi cosa ci dice you state non è definito in app giustamente andiamo a aggiungerlo import you state from react ok così questo è a posto torniamo su exam component esame non è definito riga 28 riga 28 esame non è definito certo perché esame era nello stato adesso dove abbiamo l'esame esame lo passiamo come props quindi qui dovremmo semplicemente scrivere props punto exam vedete stiamo andando alla caccia di di errori essenzialmente ok quindi la tabella sembra funzionare quanto meno e andiamo a sistemare il bottone di il bottone il bottone dato che ci siamo messi dentro un router dobbiamo utilizzare link a questo punto link a che cosa link a la pagina add quella per cui abbiamo definito il il form di aggiunta e basta perché schiacciando questo bottone verrà chiamata la root add e dovrebbe essere renderizzato il form quindi salviamo e ovviamente se non lo fa lui dobbiamo ricordarci di import link link from react router dom ok quindi la nostra tabella ce l'abbiamo vediamo se il cancella funziona no ok lo risolviamo il problema è in exam component riga 56 props delete exam props exam code perché non avremo più exam code suppongo giusto sì direi che non c'è una props che si chiama exam code quindi questo diventa exam punto code dovrebbe essere e questo si chiama delete exam sì non è più una props eh no sì è una props perché la passiamo qui ok ah no c'è exam code colpa mia non l'avevo letto sì è passato come props da exam raw ecco qui quando si fanno questi cambiamenti bisogna andare a vedere ovviamente tutto il giro quindi exam raw dove è finito qui esatto è passato come props sì da exam punto code quindi dovrebbe essere a posto in realtà così aggiorniamo un po' di volte e vediamo se props delete exam non è una funzione vabbè non gli piace questo delete exam però è questo dunque raw control delete exam props delete exam delete exam in exam in exam raw props delete exam in exam table ok dobbiamo passarla qui ecco qua dove ci mancava delete abbiamo dimenticato un pezzo di props delete exam uguale props punto delete exam perché la stiamo passando da app adesso quindi app chiama exam score exam score chiama table table chiama la riga spero va bene andiamo avanti lo controlliamo dopo dopo la pausa così intanto lo finiamo di dividere in pagine poi capiamo dov'è il problema anzi datemi vedere se per caso è facile no perché per lui non sto facendo niente quindi va bene lo controlliamo dopo andiamo avanti quindi questa comunque la tabella la visualizziamo quando premiamo add andiamo nella nostra nuova pagina e quindi giustamente siamo nella nostra pagina qui abbiamo gli esami che non abbiamo ancora aggiunto quindi in realtà la cancellazione di web application è avvenuta tra l'altro e possiamo aggiungere un nuovo esame quando premiamo quindi andiamo a vedere cosa succede nel form perché quando premiamo se noi aggiungiamo un esame per esempio system and device programming lasciamo questo voto facciamo salva e ovviamente non succede niente anzi succedono cose strane quindi andiamo a verificare che cosa dobbiamo fare che cosa dobbiamo cambiare eventualmente allora il nostro form è qui noi lo andiamo a chiamare direttamente da qui gli passiamo i corsi gli passiamo ad exam quindi qui tutto rimane uguale quello che allora quando premiamo salva iniziamo da questo quando premiamo salva ne vorremmo che di tornare alla root quindi qui vorremmo scrivere un qualcosa tipo se il form è stato sottomesso allora facciamo il redirect to slash ah sì scusate e dato che questo è un è dentro react dobbiamo ovviamente avere una root unica e quindi mettiamolo dentro il fragment poi abbiamo due problemi che uno submitted no no scusate bisogna fare così se submitted il redirect altrimenti se non è sottomesso visualizziamo il form ok e dopo di che ci servono due cose come ci c'è l'errore uno redirect non esiste quindi dobbiamo importarlo e la seconda cosa è che submitted non è definito allora noi ci serve in questo caso un nuovo stato che ci dica se il form è stato sottomesso o se non è stato se è stato sottomesso facciamo il redirect se non è stato sottomesso visualizziamo il form quindi possiamo definire un nuovo stato che si chiama submitted set submitted use state e lo inizializziamo a false perché ovviamente all'inizio lo stato non sarà sottomesso quando lo mettiamo a true lo mettiamo a true quando il form viene sottomesso ed è valido quindi set submitted true punte virgola e a questo punto facciamo props ad exam new exam quindi proviamo a vedere se funziona perché adesso dovremmo andare a posto noi abbiamo i nostri quattro esami possiamo scegliere facciamo finta computer network lasciamo tutto così com'è facciamo salva e la tabella non viene aggiornata perché non sta cambiando il suo stato ma lo risolviamo però adesso lo risolviamo magari dopo la pausa visto che è quasi ora però se noi andiamo a vedere nei in app dove c'è lo stato vediamo che ci sono cinque corsi e qui ne abbiamo uno due tre quattro quindi lo stato il corso è stato aggiunto correttamente è solo la tabella che in questo momento non si aggiorna e adesso lo sistemiamo però prima facciamo un quarto d'ora di pausa così digeriamo anche tutto questo che stiamo vedendo finora dopo la pausa sistemiamo questo errore e così completiamo la nostra divisione in due pagine ok facciamo un quarto d'ora di pausa fino alle dieci e cinque e poi riprendiamo con fino all'undici e mezza se avete domande nel frattempo scrivete pure grazie